Ci troviamo a Martignacco, in provincia di Udine, nel Friuli, Venezia Giulia. Nella memoria collettiva, nell'immaginario popolare, quella che andremo oggi a narrare è la storia di un formidabile principe sostituito nella figura da un Pio Pastore, dal martire in età senile e dal traumaturgo utile a consolidare l'incerto potere del nuovo patriarca che a lui succedette. Noi seguiremo il percorso che vi sto indicando in questo momento e farete affidamento alle indicazioni a video della mia mano per orientarvi nel percorso mostrato più avanti. Si tratta di un percorso molto vivibile, si può tranquillamente lasciare libero un po' di male senza guinzaglio, si può percorrere correndo, in bicicletta o con l'intera famiglia, bambini piccoli compresi. In alcuni tratti vi è un corso d'acqua laterale, in altri tratti, come vedrete dalle immagini, coltivazioni all'aperto che regalano meravigliosi sconfici. Qui, il lato sinistro è un corso. Il ministro conduce alla punto di partenza mentre proseguendo sulla strada maestra si arriva alla croce del Beato Bertrando e alla quercia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Beato Bertrando, dal corpo incorruttibile, così per come venne rinvenuto sotto la lastra terragna davanti all'altare maggiore della cattedrale di Udine, luogo della sua originale sepoltura nel 1353, aveva una personalità dai tratti schiettamente udinesi e friulani. Egli fu certamente celebre anche per aver introdotto un metodo nuovo per governare, più moderno, più democratico e meno incentrato sul potere principesco. Fu un pastore buono, sovente costretto a organizzare spedizioni militari contro nemici per recuperare e conservare i diritti della sua chiesa. Si narra addirittura che durante una settimana santa, essendo non poco lontano dalla sua chiesa cattedrale, cavalcò per tutta la notte con addosso l'armatura, disprezzando la minaccia dell'emico e le intemperie, pur di giungere in tempo il Giovedì Santo, in cena domini, ad Aquileia e preparare così il Santo Crismo. Morì assassinato lungo il percorso che stiamo facendo, esattamente nel punto che vi ho indicato poco fa con la croce. E da quel momento iniziò tutta una serie di miracoli a lui riconducibili che lo resero beato. E da quel momento iniziò tutta una serie di miracoli a lui ricordo, iniziò tutta una serie di miracoli a lui ricordo, iniziò tutta una serie di miracoli a lui ricordo, e proprio parlando di miracoli prende luogo anche un altro interno di miracoli a lui ricordo, fatto, tra mistero e leggenda, noto con il nome di Quercia Roll. Un albero secolare sopravvissuto a eventi storici epocali, quali il terremoto del 1976 e le incursioni naziste della Seconda Guerra Mondiale. Negli ultimi mesi della guerra, infatti, un rastrellamento delle SS naziste aveva portato tutti gli oltre 50 abitanti del luogo davanti alla Madonna di Billerio. Tra le persone anche la famiglia di un certo signor Carli era laggiù, ma il signor Carli era il proprietario del terreno sotto la grande Quercia che state vedendo ora in queste immagini. Così iniziò l'abitudine, a guerra ormai conclusa, di festeggiare ogni 4 gennaio, in ricordo di quella indulgenza per lui miracolosa, sotto la grande Quercia. E sicuramente anche la vecchia Quercia è sempre stata grata, dopo tutto al vecchio, per essere stata eletta a memoria vivente di eventi così particolari. E pur non crescendo molto, piantata lì, tra le rocce sporgenti del pendio, è rimasta bella per ogni occasione. Le due storie si intrecciano, accomunate non solo dal luogo in cui si trovano, ma anche per il senso che si attribuisce al concetto di miracolo. E' un miracolo la capacità di trovare la bellezza nelle piccole cose, senza troppi affanni. La capacità di riunirsi nei vincoli di amicizia che conducono oggi giovani laureanti a compiere percorsi scaramantici di pellegrinaggio proprio sotto questo albero. Accettare la vita così per come si presenta. E' questo, forse, il più grande segreto, lasciatoci dal beato Beltrando, che da condottiero sognava, forse, un mondo migliore.